Pescara è una realtà molto importante, è sempre stata una realtà molto importante che oggi si trova in Lega Pro, però sappiamo tutti che si merita palcoscenici più importanti di questo e il fatto che mi ha spinto a dire sì è appunto la piazza e soprattutto il volere della società che mi ha voluto fin da subito, fin dai primi giorni di mercato, anche qualche giorno prima forse che avevo sentito qualche interessamento. Sì, la preparazione del mister si può dire che sia leggera, anzi forse è l'opposto, però è giusto perché sono delle idee che il lavoro paghi, quindi di conseguenza ci consentirà di magari entrare in forma un pochetto dopo ma comunque quando entriamo in forma di essere più performanti sotto livello fisico rispetto alle altre squadre è molto tosta comunque, sono terzino, quinto, più propenso alla fase offensiva che a quella difensiva e quindi mi piace molto attaccare, molto crossare, fare questo tipo di gioco qui Sì, è uno stimolo perché questo conferma appunto il valore della piazza e il valore della società nella quale sono e ne faccio parte adesso e sì ovviamente l'obiettivo è arrivare almeno a una categoria superiore sperando di arrivarci col Pescara. Ma di obiettivi non abbiamo ancora parlato, dovremo parlarne, ovviamente non sarà un obiettivo di dire salviamoci come ci si può aspettare proprio per la piazza e la società che è e ovviamente noi lavoriamo anche senza obiettivi per arrivare più in alto possibile, per cercare di portare il nome di Pescara e della città di Pescara più in alto rispetto a dove si trova ora e dove merita di stare.